Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, ben ritrovati, buon mercoledì, oggi è importante per più motivi, oggi è la vigilia di Siviglia Juventus, quindi questa sera avremo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri intorno alle 8 di sera, dovrebbe essere programmata intorno alle 19.40, ma per esperienza vi dico che tutte le volte che la Juventus viaggia a fare una trasferta europea, la conferenza stampa non inizia mai a quell'ora e ci sono sempre i problemi, magari non la trasmettono, a volte riportano solo delle parole, quindi è sempre difficile, quindi probabilmente il video o uscirà in tarda serata o uscirà direttamente domani mattina, perché è difficile proprio capire come la Juve si organizza in questi casi, ovviamente sarò qui a cercare di portare quanti più contenuti possibili già nella giornata di oggi, però ho bisogno della collaborazione della Juventus che fissa le conferenze ad un orario e poi in realtà vanno ad un altro, ma questi sono problemi miei, quindi quando arriva il video poi vedrete che ci sarà appunto tutto quello che state cercando. Abbiamo la prima finalista di Champions League, è importante perché oggi sapremo la seconda, la prima è l'Inter, la prima è l'Inter e io mai avrei immaginato, mai avrei immaginato di vedere l'Inter di Simone Enzaghi in finale di Champions League, e quindi bisogna semplicemente fare i complimenti perché sono arrivati a compimento di un percorso importante e qualcuno mi sta dicendo, eh sì però hanno affrontato soltanto Porto, Benfica e Milan, sì è vero, il sorteggio è stato fortunato, una dose di fortuna c'è, così come una dose di bravura, perché io ricordo che negli ultimi anni noi in Champions abbiamo affrontato squadre come appunto Lione, Porto, Villareal e siamo stati eliminati nelle partite di andata e ritorno, quindi su 180 minuti nemmeno una partita secca nella quale può accadere qualsiasi cosa. Non metto nel calderone Ajax e Benfica perché mi sono sembrate squadre decisamente superiori alla Juventus in quel momento, però quelle altre che erano squadre al nostro livello anzi inferiori, noi siamo riusciti a farci veramente incartare e a fare delle figure barbine, quindi a volte non serve nemmeno il favore del pronostico, poi bisogna scendere in campo e dimostrare, e l'Inter l'ha fatto, quindi si va a giocare una finale di Champions, io ho visto che ho fatto impazzire un po' di persone dicendo che li abbiamo mandati noi in finale di Champions, per un motivo, quando abbiamo affrontato l'Inter nella competizione, la Coppa Italia, dove potevamo raggiungere noi una finale, loro sono arrivati in un momento veramente critico, dove venivano da qualche risultato un po' ballerino, nella partita d'andata abbiamo regalato fiducia all'Inter con un pareggio al 96esimo minuto di gioco, e poi l'Inter da lì ha iniziato a ritrovare fiducia, a ritrovare tranquillità, perché poi che cosa è successo? È successo che l'Inter vince in campionato prima di arrivare a giocarsi la semifinale di ritorno con la Juve, e noi scendiamo in campo in una maniera disastrosa, l'Inter elimina la Juventus e da quel momento l'Inter riesorge dalle sue ceneri, era il momento in cui probabilmente potevi davvero dare il colpo di grazia all'Inter, uccidere l'Inter, invece l'Inter era una squadra stanca, forse una squadra che aveva perso fiducia nelle proprie caratteristiche, nelle proprie capacità, e quel trionfo sulla Juventus ha restituito un po' di freschezza, secondo me soprattutto mentale, alla squadra di Simone Inzaghi, ricordo che in quel periodo si parlava addirittura di un Inzaghi che poteva venire esonerato, a stagione in corso era già pronto Kivu a prendere il posto di Inzaghi, quindi un Inter veramente in crisi nera, che non significa che è la Juventus che ha portato l'Inter in finale di Champions, perché quello poi, ripeto, è un discorso di campo, è un discorso di sorteggio, un discorso come sempre campo e sorteggio, alla fine le competizioni di questo tipo sono sempre state una roba del genere, però sicuramente noi abbiamo aiutato l'Inter in quel momento, dovevamo essere più cattivi, più cinici, e davvero, ragazzi, quando si parla di calcio, secondo me queste sono cose che abbiamo preso in considerazione, perché rientrano all'interno delle motivazioni, all'interno degli stimoli di cui vivono i calciatori, vivono i club, quindi purtroppo, purtroppo è andata così. Vorrei tornare un attimo sul rinnovo di Alexandro, perché ieri abbiamo parlato, visto che il video è andato molto bene, di questo ovviamente come al solito vi ringrazio, ed è qui secondo me che deve esserci la critica del tifoso juventino. Attenzione non al rinnovo in sé di Alexandro, perché come dicevamo ieri, bene o male rincastrato, c'era un rinnovo automatico, c'era un contratto che arrivava da una vecchia gestione, e quindi il dirigente della Juventus attuale non può fare altro che prendere atto e firmare il rinnovo di Alexandro, che appunto era scattato in maniera automatica. Ma quando mi si dice, dovresti prendertela con i dirigenti della Juventus per la situazione in cui vi siete messi, riferita alle penalizzazioni, io mi arrabbio con i dirigenti della Juventus per queste cose qui che hanno fatto nel passato, queste cose qui, perché oggi stiamo scontando, dal punto di vista economico e tecnico, tante decisioni sbagliate prese negli ultimi anni. Attenzione, perché negli ultimi due anni la Juventus ha cercato di fare una sorta di repulisti, cercato di fare una sorta di repulisti, di salutare giocatori che comunque guadagnavano stipendi importanti, Matuidi, Higuain, Chedira, Ramsey, Dybala, adesso saluteremo Quadrado, ci sono stati, sicuramente me ne sfuggono tanti altri, Pjanic stesso, ci sono stati davvero tantissimi giocatori associati a quegli anni lì che hanno salutato la Juventus e che guadagnavano delle cifre molto molto importanti. Ah, mi sono scordato il più neroso di tutti, cioè Cristiano Ronaldo, che però viene allontanato per motivi diversi rispetto al voler alleggerire il bilancio. Quindi la Juventus negli anni sicuramente ha cercato di alleggerire un po' il monte in gaggi, non è ancora ultimata, ieri vi parlavo di estate 2024, attenzione che l'estate 2024 diventa importante anche per un altro motivo, e cioè ieri Bonucci ha annunciato che il suo contratto in scadenza a giugno del 2024, 30 giugno del 2024, con la Juventus, sarà anche l'ultimo anno di calcio giocato, quindi ora Bonucci che è infortunato, ora che Bonucci ha la stagione finita con la Juve, raggiunto le 500 presenze, l'anno prossimo molto probabilmente Bonucci sarà ancora in rosa e al termine della stagione Bonucci saluterà la Juventus e il mondo del calcio dal punto di vista del calciatore. Quindi anche l'altro giorno stavamo parlando della conferenza stampa dell'Igri, quella frase di Sibillina su Bonucci, ieri Bonucci ha messo le cose in chiaro, ha detto no, io ho un altro anno di contratto con la Juventus, al termine di quell'anno mi ritirerò. Ieri Romeo Agresti aggiungeva un altro dei contratti dal punto di vista del più uno, è quello di Cesni, che comunque è un contratto molto oneroso, scade nel 2024, è un altro più uno. In quel momento i dirigenti della Juventus programmavano una squadra che potesse rimanere ai vertici alti per tanto tempo e quindi tutti quei giocatori che magari avevano anche un'età media di un certo tipo, quindi Quadrado, Alexandro, forse lo stesso Bonucci, magari c'è un più uno anche nel contratto di Bonucci, ieri Leo non ha parlato di questa cosa, lo stesso Vojtek, quindi magari ci sono, la Juventus in quel momento lì cercava di tenere quei giocatori, di tenerseli buoni. Io penso anche una cosa, se il ruolo del portiere è comunque anche un ruolo particolare, basti vedere il buon Gigione Buffon che cosa sta facendo, secondo me la priorità della Juventus oggi non è la porta, anzi, Cesni mi sembra un giocatore che sta continuando a mantenere un standard elevato, Perini è un giocatore che mantiene un standard elevato, il gruppo portiere della Juventus, tra l'altro ho visto la bella e simpatica, divertente intervista sul canale Twitch della Juventus con Leandro e con Beppe, a cui mando un salutone, è stata molto molto divertente questa chiacchierata con i portieri, io penso che il gruppo portiere sia l'unica cosa che in questo momento la Juve non ha senso andare a toccare, poi certamente bisogna iniziare a monitorare alcuni profili per il futuro, come può essere Carne Secchi, di cui si è parlato abbastanza, però questo che cosa ci fa, cosa ci racconta, cosa ci porta alla mente, che la Juventus negli ultimi anni è stata molto pigra da questo punto di vista, pigra nel senso che c'era la squadra, si era costruita, erano arrivati giocatori di livello, giocatori di talento, giocatori forti e piuttosto che cercare un cambio generazionale di questi giocatori si tenevano lì, si tenevano lì, che se vogliamo è un po' quello che sta facendo l'Inter in questo momento, dato che volevo cercare di mischiare i due argomenti, mi spiego anche meglio, la Juventus e l'Inter sono state costruite entrambe da Beppe Marotta, la Juventus ha fatto due finali di Champions sotto Beppe Marotta, l'Inter ha fatto una finale di Champions e una finale d'Europa League, vedremo se l'Inter riuscirà a vincere la Champions League anche se Real e Manchester City sembrano avversari decisamente più forti dell'Inter, ma nella partita secca tutto può succedere, lo sappiamo benissimo. Quindi significa che comunque Marotta è in grado di costruire delle squadre, è in grado di andare a individuare determinati giocatori anche se non è proprio a Marotta che appartiene all'area sportiva ed è in grado di parlare ai microfoni, gestire le interviste, gestire i bilanci, quindi questa cosa da questo punto di vista Marotta è sicuramente un top player, lo ha dimostrato sia da noi che da loro purtroppo portandosi a casa anche uno scudetto con l'Inter che va a interrompere i giorni della Juventus e bla bla bla. Tra l'altro tutti e due i cicli iniziati con Antonio Conte e questa cosa fa sorridere perché il ciclo vincente della Juve inizia con Conte, il ciclo vincente dell'Inter inizia con Conte, l'allenatore dopo Conte con la Juve raggiunge una finale di Champions, l'allenatore dopo Conte con l'Inter raggiunge una finale di Champions, queste cose sono curiose, sono veramente curiose, sono delle cose che fanno dei giri immensi e poi ritornano e come all'epoca Allegri fu bravo a metterci qualcosa di suo, negli ultimi due anni Inzaghi è stato bravo a metterci qualcosa di suo, quindi tutte e due le squadre ereditate che prima appartenevano a Conte sono state comunque modificate e migliorate perché poi Conte sia la Juve che l'Inter è riuscito a uscire ai gironi con l'Inter arrivare in finale di Europa League, con noi purtroppo ricorderete tutti che cosa era successo, cerchiamo di arrivarci questa volta in finale di Europa League perché c'è da vendicare quella partita di qualche anno fa nell'anno del record dei punti, però Marotta che cosa fa? È un po' pigro anche lui da questo punto di vista, nel senso che costruisce delle squadre che raggiungono risultati ma con delle età medie abbastanza elevate, con dei giocatori spesso volentieri presi a parametro zero, infatti Marotta credo che sia uno dei più bravi a scovare giocatori a parametro zero, basti pensare che l'Inter che raggiunge la finale di Champions ha Onana, Dzeko, Mkhitaryan, Cialanoglu, me ne sfuggono sicuramente altri, De Vrij, me ne sfuggono sicuramente altri, ma tantissimi giocatori comunque prelevati a parametro zero e che sono stati magari pagati, strapagati di più di quello che è loro valore di mercato proprio perché erano a parametro zero. E non è tanto quello che Marotta fa, in cui lo ripeto secondo me è uno dei più bravi, anzi se andate a vedervi tutti gli errori della dirigenza, i video degli errori della dirigenza, io andavo proprio a dire che nasce tutto dall'addio di Marotta, nasce tutto il percorso negativo della Juventus perché probabilmente in società era mancata una figura con una competenza elevata in materia amministrativa, in materia comunicativa, in materia calcistica in generale, tutte queste cose potevano essere messe tutte insieme, quindi Marotta è molto bravo a fare questo lavoro e a creare squadre che arrivano a raggiungere risultati in Italia, qualificazioni in Europa, il difficile arriva quando poi Marotta lascia, quando poi Marotta lascia, perché? Perché lascia delle squadre appunto create con dei giocatori che in quegli anni lì sono al top della forma, sono al massimo livello, meritano i 5-6 milioni di euro all'anno che vengono riconosciuti, poi però diventa complicato. Io non ricordo sinceramente se il rinnovo di Alessandro è stato fatto sotto Marotta, se è stato fatto sotto Paratici, questo nemmeno mi interessa, però il punto è quello lì, che la Juventus è stata molto pigra, molto pigra negli anni, è stata molto pigra perché ha preferito semplicemente appoggiare la pila, il cash, il denaro sul banco e sul tavolo e dire tu sei già qui, invece che andare là, che non sai che cosa succede, rimani qui, ma non perché solo volesse mantenere il giocatore, ma perché poi era molto più complicato andarne a prendere un altro, inserirlo, attenderlo e tutte queste cose qui, svezzarlo, farlo crescere, quindi siamo stati molto, molto pigri da questo punto di vista. E i risultati che sta ottenendo l'Inter in questo momento sono abbastanza, come abbiamo visto, sulla falsariga di quelli che aveva raccolto la Juve, poi magari l'Inter riuscirà lì dove noi abbiamo fallito, e cioè vincere la Champions, e vincere e non vincerla non fa poca differenza, e noi lo sappiamo bene, aperte e chiusa parentesi, purtroppo. Però il modus operandi è lo stesso, è quello, cercare di costruire delle squadre, non dico che siano usegetta perché non è vero, però poi queste squadre hanno necessità di essere modificate, ed è proprio per questo che io sto attendendo con ansia Giuntoli come se fosse Natale, ma vi ho già anche spiegato il motivo, non perché credo che Giuntoli sia il più bravo del mondo e che arrivi con la bacchetta magica, pam, vada a risolvere il problema della Juve, anzi, abbiamo analizzato quello che è stato il percorso di Giuntoli prima a Carpi, poi a Napoli, i giocatori, i mercati, le cose che ha sbagliato perché ne ha sbagliate, le cose che ha fatto bene perché ne ha fatte bene, non è che arriva Giuntoli con la bacchetta magica, pam, però la Juventus in questo momento non ha nessuno in quel ruolo, non ha una figura predisposta nell'organigramma alla creazione, perché in questo momento stiamo vivendo un momento in cui la Juventus paga, paga gli errori dei dirigenti passati, precedenti delle gestioni passate, precedenti, in cui avevamo ormai raggiunto uno status molto elevato e abbiamo giocato un po' troppo con questa cosa, ci siamo avvicinati, l'ho già detto mille volte, troppo al sole, come Icaro con le ali di cera, si sono sciolte, si sono caduti e ora paghiamo, e ora paghiamo perché abbiamo sbagliato e non c'è nessuna figura in questo momento nell'organigramma della Juve, dal punto di vista sportivo non era quello che faceva Samarotta, perché la Juventus all'epoca lo faceva paratici, però era un duo, una coppia che lavorava molto bene, benissimo, noi dobbiamo ricominciare dal creare le squadre, ma creare le squadre che possano essere anche sostenibili, perché non possiamo oggi ripetere l'errore di andare a creare una squadra che nel giro di due anni magari ti arriva in finale di Champions, cosa che non credo con la Juventus attuale, anzi sappiamo nemmeno se la giochiamo, la Champions la giocheremo, però una squadra che è in grado di ripartire dalle basi, la Juventus oggi deve ripartire dal campo di calcio, deve ripartire dalla creazione del talento, dalla valorizzazione del calciatore, perché? Perché è l'unico modo per cercare di ripartire dopo un periodo in cui ci sono state tante sanguisughe che negli ultimi anni ti portavano via, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 31 milioni di euro all'anno, perché se erano forti, se li meritavano, all'epoca erano altri progetti, se la volontà era condivisa, se poteva c'erano i soldi, tutte queste cose ci sono? No, benissimo, non possiamo più ripartire dai nomi, non possiamo più ripartire noi dai Dzeko, dai Mkhitaryan, dai Cialanoglu, da questi personaggi qui, che ha preso Marotta, con cui è arrivato in finale di Champions con l'Inter, facendo un lavoro meraviglioso, perché io sono qua, non è che ci sono tante altre strade, tipo Juventus, l'Inter in finale di Champions, noi siamo usciti i gironi, sono felice, rosico, perché fa parte l'essere tifoso, e penso anche che sia scemo nascondere questa cosa, è normale che in questo momento ci sia un'invidia positiva nei confronti di una squadra che va a giocarsi la competizione più importante, è un'invidia positiva ed è quello che deve cercare di migliorarti, a maggior ragione io dico, nell'anno in cui Napoli vince lo Scudetto, Milano e Inter arrivano a giocare su una finale di Champions, e ci va l'Inter, la Roma l'anno scorso vinto un titolo europeo, quest'anno può arrivare in finale per un altro titolo europeo, noi ci vorremmo intorno, e tante volte ho fatto questo discorso e qualcuno mi ha detto, e credo anche con ragione, sì però noi negli anni precedenti abbiamo fatto questo, questo e quell'altro, sì d'accordo l'abbiamo fatto, è vero, verissimo, non si può sempre vincere, però nemmeno arrendersi all'idea che, e vabbè, dato che abbiamo vinto nel passato, ora dobbiamo perdere, perché questa cosa non esiste, è vero che vincere è fenomenale, è strepitoso, è unico, è qualcosa di straordinario sempre, è verissimo questo, ma non significa che dato che hai vinto l'ora ora devi sederti sulla riva del fiume e osservare in silenzio dicendo vabbè ma sto perdendo solo perché ho vinto, no, devi metterti nell'ordine dell'idea e creare i presupposti per tornare a vincere comunque, e con un'altra strada, perché quella che abbiamo percorso negli anni precedenti non è più percorribile, o almeno non in tutti gli anni precedenti, ma fino all'accessione di Pogba, perché quello poi è il punto di svolta della Juventus, da quel momento lì in cui c'è di Pogba per 100 milioni di euro, fai la più grande vera plusvalenza della storia del calcio, della Juventus, di tutto, e quei soldi ti danno quel, ti mettono all'interno di un ciclo vizioso in cui Higuain, Pjanic, Bernardeschi e Douglas Costa, Matuidi e tutti i giocatori che vai a prendere a 30, 40, 50, 100 milioni di euro. Invece prima cosa c'era? La costruzione, la ricerca, lo scouting, l'investimento ponderato, prima di Higuain 90, il più alto era Dibala 40, e quando si prende Dibala 40 da mangiarsi le mani, nel senso, cavolo un investimento così grande la Juventus, si vede che ci crede così tanto in quel ragazzo. Prima ancora Isla Isla e Asamoah 15 milioni di euro, perché ti servivano due esterni, perché giocavi col 3-5-2? Bisogna ripartire da lì, il Vidal a 15, il mercato è cambiato, è difficile oggi che con 15 milioni di euro tu vada a prenderti un giovane che è già in rampa di lancio, che ha fatto due belle stagioni in Germania, anche perché probabilmente arriva il Bayern, il City, il Real, il Barcellona, lo United, il Chelsea, il Liverpool, l'Arsenal di turno, fa l'offerta, se lo pigliano, se lo portano a casa. Però qui è brava la Juve, qui è brava la Juve, perché c'è uno scouting, la Juventus è bravissima nello scouting e lo ha dimostrato portando tra Primavera e Next Gen diversi giocatori di talento, diversi giocatori che ci invidiano. È lì, è lì che la Juventus adesso deve far breccia, quello è il nuovo mercato della Juventus, quello è il nuovo target della Juventus, quello è il nuovo futuro della Juventus, il nuovo destino della Juventus, la nuova strada della Juventus, il nuovo percorso, bisogna prendere quello lì, perché lì sono bravi a prenderli prima, a prenderli dagli altri settori giovanili, perché c'è un progetto prima della prima squadra e la prima squadra deve campare su queste cose qui, su queste cose qui, e qui io lo dirò sempre, è stato bravissimo Federico Cherubini nel collaborare per fare quella roba lì, ed è l'unica via d'uscita che ha la Juve in questo momento complicato, in questo momento difficile, la creazione e la valorizzazione del talento. L'arrivo di uno come Giuntoli, che serve come il pane per gestire poi quelle poche operazioni che potremo fare ora in prima squadra, deve unire l'utile al direttevole, e quindi unire quei giocatori che nascono dal settore giovanile e quelli che possano arrivare da fuori e diventare potenziali crack. È difficile? Sì, però siamo stati troppo pigri in passato e quindi adesso occorre rimboccarci le maniche e cercare di migliorare. Ragazzi un abbraccio, forza Juventus e ci vediamo questa sera o domani mattina a seconda di cosa decide la Juve, per l'analisi, per l'analisi delle parole di Massimo Gianni Allegri, in conferenza stampa, nel finale mi stavo impappinando.